Il 27 ottobre scorso il personale in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza ha tratto in arresto e in flagranza di reato due uomini rispettivamente di 48 e 23 anni accusati di furto aggravato in concorso. L'operazione ha avuto inizio a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 riguardante il furto di un'autovettura perpetrato da due individui con volto travisato nella zona di via Popilia. Gli agenti della squadra volante in transito su Viale Mancini nell'ambito dei servizi di controllo del territorio si sono recati immediatamente sul posto intervenendo con tempestività. Dopo un breve inseguimento sono riusciti a intercettare il veicolo segnalato nel quale si trovavano i due sospetti. Una volta fermati i due uomini sono stati trovati ancora in possesso di scaldacollo e guanti in lattice indossati presumibilmente per celare la loro identità e per evitare di lasciare tracce. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto anche vari strumenti atto allo scasso confermando così le intenzioni criminose dei soggetti. Entrambi gli arrestati risultano pregiudicati e già sottoposti a misure di prevenzione come l'avviso orale. In seguito a fermo i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e su disposizione del pubblico ministero di turno posti inizialmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. A conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto è stata applicata nei loro confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.